OST 2023 continua, ci troviamo allo stand di Foodness, l'azienda che si occupa di produzione e distribuzione di prodotti freeform, ma non solo per la distribuzione automatica e soprattutto per il settore oreca, con le tante novità presentate al mercato in questa fiera biennale internazionale. Ce le presenta Sara Lusetti, che è la responsabile marketing dell'azienda. Cara, Sara, è un gran piacere ritrovarti qui con noi. Ciao Fabio, un piacere anche per noi, grazie mille. Quello che vedete in questo momento è l'assoluta novità, io direi, per tutto il settore oreca presentata quest'anno. Sara, che cos'è questo nuovo prodigio presentato da Foodness a OST 2023? Allora, tanto prodigio mi piace moltissimo come parola perché noi lo definiamo magia, quindi siamo allineati. Allora, si tratta di Dropology, che è una macchina molto piccola, un'attrezzatura che ha le dimensioni di un foglio A4, che serve per velocizzare il processo di sferificazione. Che cos'è la sferificazione? È un procedimento che serve per trasformare un liquido, qualsiasi tipo di liquido, può essere anche una base alcolica, un succo di frutta, uno sciroppo, in una sfera solida, quindi c'è solida all'esterno ma che rimane liquida all'interno, che può essere utilizzata per decorare cocktail, aperitivi, oppure anche creme fredde, crema yogurt, crema di caffè. Le applicazioni sono potenzialmente infinite, basta semplicemente lasciare andare la fantasia e i baristi sappiamo che ne hanno da vendere. Quindi questa macchina, fondamentalmente in un minuto, lasciandola lavorare sul bancone in autonomia, sviluppa circa 200 drops che possono poi essere utilizzate praticamente per qualsiasi tipo di creazione. Quindi in realtà chi già lo faceva, i chef stellati, i bartender di bar di alto livello, erano abituati a farle a mano, quindi con una siringa, un procedimento lungo, laborioso. Con questa macchina, questo procedimento risulta assolutamente semplice, veloce. Inoltre è anche bella da vedere perché si può lasciare sul bancone del bar e è veramente ipnotica. Non occupa spazio? No, perché è molto piccola, molto piccola, silenziosa, quindi fa il suo lavoro tranquillamente e nel frattempo cattura anche l'attenzione dei consumatori. Non abbiamo detto che in dotazione con il primo kit per tutti coloro che desiderano acquistarla ci sono sei istruzioni, ricette per poter realizzare delle bevande specifiche. Poi tutto naturalmente può essere ampliato con l'estro e la fantasia di coloro che andranno a divertirsi per ampliare appunto l'offerta nel proprio locale. Così? Esatto, sì, giusto per dare una prima scelta, una prima idea di quello che si può realizzare con Dropology. Abbiamo realizzato sei ricette specifiche per le drops, molto semplici, molto facili da realizzare, però davvero di grandissimo effetto. Poi da lì ovviamente il barista poi può lasciarsi andare con la propria fantasia. Sara, voi siete famosi per presentare tantissime cose al mercato continuamente, ogni anno, ad ogni fiera c'è sempre una novità. Il vostro ufficio, progetto e sviluppo è sempre in attività. Io dico, prendendovi un po' in giro, lavorate anche di notte, sabato e domenica compresi. Cos'altro presentate di nuovo qui a Oss 2023? Abbiamo due bevande nuove in capsula, professional, che si vanno ad aggiungere alla nostra gamma già piuttosto ampia di bevande in capsula. Sono due, una è la bevanda al pistacchio, che ha all'interno non un aroma di pistacchio ma la vera pasta di pistacchio e il caffè al gusto di caramello salato. Quindi sono due gusti molto in tendenza, molto richiesti, molto popolari, sono cremosissimi, sono senza glutine e senza lattosio, ovviamente in pieno stile foodness. Sono in capsula in box da 50 e vanno ad aggiungersi alla gamma di caffè al ginseng, bevande a zenzero e limone, melograni e mirtillo, che già sono conosciute dai nostri clienti. Senza dimenticare, naturalmente, la vostra crema di caffè. Esatto, certo. Ovviamente non può mancare, noi abbiamo una gamma ampissima di creme fredde, oltre a quella al caffè che hai citato tu, che abbiamo sia senza glutine e senza lattosio, ma anche con ridotto contenuto di zuccheri. Abbiamo la crema al yogurt, anche questa senza lattosio, e poi abbiamo la nostra crema fredda già pronta per essere servita senza granitore, che è in brick da un litro, oppure in coppetta. Anche questa da 125 grammi, l'abbiamo chiamata My Kiko e questa la distribuiamo oltre ai bar, ovviamente anche nel vending, nelle nostre vendite. E allora Sara, io ti ringrazio per l'opportunità di far conoscere a tutti loro in anteprima quelle che sono le novità di Foodness. Richiamiamo per un attimo l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno, oppure richiedere proprio la visita di un addetto commerciale per prendere contatti con voi e chissà diventare vostri clienti. Magari, l'indirizzo mail è info-foodness.it. È il momento dunque di andare ad assaggiare questo gioiellino qui che è alle nostre spalle, l'abbiamo riservato per subito dopo l'intervista. Sara, grazie ancora. Grazie mille a voi, grazie Fabio. Grazie a tutti.